Ci stiamo abituando a sentirci vicini in modo diverso. Ma se cambiano i gesti, non cambia la sostanza. Perché abbiamo ancora voglia di amare, sorridere e donare. Per la sicurezza di tutti, cambia anche la colletta alimentare. Dal 21 novembre all'8 dicembre in cassa o online potrete acquistare una card. L'importo scelto verrà convertito in cibo che doneremo a chi ne ha bisogno. Colletta alimentare 2020 cambia la forma, ma non la sostanza. Grazie.